il duca e la duchessa del sussex sono stati licenziati dal loro lucroso accordo con spotify la scorsa settimana e ora hanno gli occhi puntati sulla firma di nuovi accordi con il marchio megan markle e il principe ferry sono stati invitati a firmare un grosso accordo con il marchio di moda di or i rapporti suggeriscono che la duchessa del sussex sarebbe il volto del marchio dopo che il loro contratto con spotify è stato annullato la scorsa settimana un esperto ha fatto luce sul motivo per cui lo stilista potrebbe essere la soluzione perfetta per la coppia dicendo è più facile essere uno stand di biancheria che un guerriero dei problemi il duca e la duchessa di sussex hanno indossato abiti di or in diverse occasioni il mese scorso il principe ferry ha indossato un abito dal design personalizzato del direttore artistico di di or king jones per ellie in coronazione del re mentre megan ha indossato di or dalla testa ai piedi al national service of thanksgiving durante le celebrazioni del giubileo di platino la scorsa estate megan anche indossato di or al funerale della regina elisabetta seconda al battesimo di arci e in molte altre occasioni reali prima che la coppia facesse un passo indietro come senior working royals nel marzo 2020 l'esperto di pubbliche relazioni mark borkosk ha dichiarato al daily mail che la coppia un grande potere nella moda è ricercata dalle case di moda borkosk ha affermato che la possibilità di un accordo avrebbe potuto essere in corso da un po in termini di negoziazione ha detto sono più a loro agio in questo mondo stile sulla sostanza sembra essere una serie di strane coincidenze ferry indossa un abito di or all in coronazione e di or al caso di hacking e ora potrebbe essere in vista un accordo